nuovo appuntamento con l'informazione di oggi a nord est istituire la giornata della memoria giorno del ricordo sono tra gli atti più importanti che abbiamo fatto di recente purtroppo i negazionisti ci sono a destra e sebbene qualcuno si ostini negarlo anche a sinistra e continuano ad opporsi alla verità della storia ci sono orrori che sono verità e vanno conosciute ammesse come ci ha lasciato scritto primo levi meditate che questo è stato e quanto dobbiamo fare perché la tragedia non accada più lo ha affermato l'assessore regionale alla cultura tiziana gibelli a margine della cerimonia organizzata dal comune di pordenone in occasione della giornata della memoria per ricordare le vittime dell'olocausto e del nazifascismo gibelli ha reso gli onori alla targa commemorativa nel cortile dell'ex provincia assieme al sindaco alessandro ciriani e al prefetto domenico lione alla presenza del presidente dell'associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti di pordenone eliseo moro la vera memoria sta nell'esercizio quotidiano delle coscienze a riconoscere le minacce ai valori di eguaglianza e giustizia quei valori su cui oggi si regge la pace per la nostra comunità il sacrificio consumato nei campi di sterminio nazisti non va mai dimenticato queste le parole pronunciate dall'assessore regionale all'attività produttiva e turismo Sergio Emidiobini a margine della celebrazione promossa dalla questura di udine in collaborazione con l'associazione nazionale polizia di stato nella ricorrenza del giorno della memoria e sempre sul tema del giorno della memoria è fondamentale non solo per ricordare ma anche per costruire il futuro contro il popolo ebraico vediamo ancora moltissima intolleranza violenza e discriminazione lo ha affermato a trieste il governatore del friuli venezia giulia massimiliano fedriga a conclusione della cerimonia commemorativa al monumento nazionale della risiera di san sabba unico campo di sterminio nazista con forno crematorio in italia sentiamo governatore fedriga giornata della memoria un altro momento fondamentale per ricordare ma anche per contrastare fenomeni di violenza contro il popolo ebraico in tutto il mondo penso che c'è un giorno più che sicuramente per ricordare ma anche per costruire e per costruire anche un modello sociale dove sia inaccettabile che ci siano ancora persecuzioni per motivi religiosi purtroppo mi sembra che siamo di fronte a invece una rappresentazione della realtà dove il commento social magari inopportuno è fuori luogo però si è diventato il centro del mondo del e tutti si scandalizzino quando ci sono invece popoli perseguitati gente che in israel ha paura di andare a rischia quando va a fare la spesa portava via a scuola perché rischia di ricevere un missile in testa quando ci sono anche cristiani pensiamo le le chiese che vanno a fuoco in francia poi perseguitati cristiani nel mondo là tutti disinteressati ecco penso forse queste giornate ci fanno anche riflucalizzare sulle priorità e sulle criticità che ci sono mi auguro che la comunità internazionale si muovi in questa direzione per tutelare la libertà delle persone la libertà della religione il diritto e la vita dei cittadini non solo questo governo ha creato seri disagi e danni economici ai cittadini ma con l'esecutivo conte dimissionario sarà ancora più difficile superare alcuni problemi gestionali causati dal decreto legislativo 116 2020 che esclude i rifiuti da costruzione e demolizioni dal novero di quelli urbani si dice preoccupato l'assessore alla difesa dell'ambiente fabio scocci marro in particolare per le conseguenze che devono sopportare i privati pordenone propone un modello che poggia sulla sua lunga importante esperienza ma anche si evolve sulla base di bisogni che purtroppo si ampliano mettendo in rete un'importante alleanza su norme risorse pianificazione regionale e gestione e riconoscendo il ruolo di sentinella del territorio e comuni non è un modello per nulla scontato e la regione ha intenzione di declinarlo nelle altre parti del friuli venezia giulia tenendo presente le peculiarità di ciascun territorio lo ha sottolineato il vice governatore del friuli venezia giulia con delega della salute politiche sociali riccardo riccardi alla presentazione dell'atto delega all'azienda sanitaria friuli occidentale da parte degli enti locali dell'area vasta pordenonese relativamente ai servizi per la popolazione con disabilità in età adulta nel triennio 2021 2023 è stato avviato dalla regione il percorso di aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente s3 in vista della nuova programmazione comunitaria sono stati identificati gli elementi di competitività e le specializzazioni tecnologiche presenti sul territorio ma anche le risorse economiche da destinare alla ricerca e all'innovazione con l'obiettivo di favorire la competitività del tessuto economico produttivo la digitalizzazione lo sviluppo delle competenze con l'apprezzamento per il nuovo modello di governance introdotto con l'apprezzamento della platea di portatori di interesse ascoltati da gruppi di lavoro qualificati e con il coinvolgimento da parte dell'agenzia lavoro e sviluppo impresa di area science park e della componente imprenditoriale del territorio l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini ha aperto la seconda sessione dello webinar che intendeva fare il punto sullo stato di avanzamento della predisposizione delle linee strategiche della nuova programmazione comunitaria infatti di strategia di specializzazione intelligente denominata s3 condivisione e ascolto secondo Bini sono due elementi che devono caratterizzare il percorso di predisposizione di tutti gli strumenti necessari per consentire al tessuto economico produttivo e alla nostra società di guardare al futuro con prospettive concrete tra i limiti della precedente programmazione comunitaria vi erano la scarsa pubblicizzazione e un minor coinvolgimento dei portatori di interesse ritengo che di fronte al bando di gara per la gestione dei richiedenti asilo la garanzia fornita dal governo relativamente all'invariata dispesa alla lunga non regga se per il 2021 contano di usare i risparmi generati dai decreti salvini per gli anni a seguire o saranno sanziate risorse giuntive oppure saranno costretti a tagliare servizi lo ha detto a triessa e l'assessore regionale alle sicurezze e le politiche dell'immigrazione del friuli venezia giulia pierpaolo roberti a margine del tavolo nazionale per il coordinamento dei flussi migratori riunitosi in videoconferenza alla presenza del viceministro matteo mauri meeting di atletica come quello che si sta svolgendo alla pala bernes sono un segnale di buon auspicio per la ripartenza dello sport e celebrano una tradizione sportiva regionale che ha saputo negli anni far emergere molti grandi campioni lo ha detto l'assessore alle finanze del friuli venezia giulia barbara zilli a margine delle premiazioni di udin jump development mythic indoor di salto in alto in programma al pala bernes di paderno a udine buone energie e tante piccole felicità è in edicola il nuovo almaracco barba nera consigli di buon vivere per la vita in casa la famiglia il benessere l'orto il giardino e il balcone seguendo la luna e le stagioni al manacco barba nera 2021 in edicola con due preziosi regali l'oroscopo 2021 e il calendario la luna in casa per un nuovo prezioso anno di felicità sul friuli venezia giulia di primo mattino sereno e freddo poi nuvolosità variabile per il passaggio di nubi ad alta quota dal pomeriggio su bassa pianura e costa probabile maggiore nuvolosità possibile qualche debole nevicata o nevischio intorno alle creste di confine con l'austria per quanto riguarda le temperature da meno 5 a meno 2 sulla pianura le massime da 4 7 gradi sulla costa le minime da 1 a 4 gradi le massime da 5 a 8 gradi centigradi passiamo al veneto poco parzialmente nuvoloso per nubi medio alte possibili locali banchi di nebbia sulla pianura meridionale fino al mattino temperature sulle zone montane in aumento in pianura locale variazione le minime prevalentemente in diminuzione le massime previsioni a cura di arpa fvg meteo e di arpa agenzia regionale per la prevenzione protezione ambientale del veneto per il momento dal nordeste è tutto appuntamento alla prossima edizione attenzione 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 Grazie a tutti.